Tudor Black Bay Lunetta Nera, l'orologio che incarna l'eleganza senza tempo. Se cerchi un orologio da polso che ti faccia sentire elegante e raffinato in ogni occasione, il Black Bay Lunetta Nera è il modello che fa per te. Questo orologio, realizzato dalla casa orologera svizzera Tudor, rappresenta l'incarnazione dell'eleganza senza tempo, con un tocco moderno e sofisticato. Il Black Bay Lunetta Nera si distingue immediatamente per la sua lunetta girevole nera unidirezionale, che gli conferisce un carattere deciso e contemporaneo. Questa scelta di design non è casuale. La lunetta nera è un omaggio ai primi orologi da immersione, ma reinterpretata in una chiave moderna. La lunetta nera ha una funzione pratica oltre che estetica, serve a misurare il tempo di immersione, indicando i minuti trascorsi. La lunetta è graduata da 0 a 60 e può essere ruotata solo in senso antiorario, per evitare errori di calcolo. La lunetta è anche dotata di un inserto in ceramica, che la rende resistente ai graffi e agli urti, e di un disco luminescente a ore 12, che la rende visibile anche al buio. La lunetta nera si abbina perfettamente con il quadrante, che presenta un aspetto pulito e armonioso. Il quadrante, disponibile in diverse colorazioni, è decorato con gli indici a forma di bicchiere e le lancette a forma di fiocco di neve, tipici del marchio Tudor. Questi elementi sono riempiti di materiale luminescente, che li fa brillare di verde o di blu al buio, a seconda della versione. La cassa in acciaio inossidabile ha un diametro di 41 mm e una resistenza all'acqua fino a 200 metri. La cassa è anche protetta da un vetro zaffiro bombato, che resiste ai graffi e agli urti, e da un fondello in acciaio con inciso il logo Tudor. Il movimento al suo interno è il calibro MT5602, un movimento automatico che offre una precisione cronometrica e una riserva di carica di circa 70 ore. Il movimento è anche certificato dal COSC, controllo ufficiale svizzero dei cronometri, che garantisce la sua qualità e la sua affidabilità. Il Black Bay Lunetta Nera è disponibile con diversi tipi di cinturino, che ne esaltano il carattere e lo stile. Il cinturino in acciaio inossidabile presenta una chiusura pieghevole e una fibbia di sicurezza. Il cinturino in pelle presenta una fibbia d'ardiglione. Il cinturino in tessuto presenta una striscia centrale che richiama il colore della cassa. Tutti i cinturini sono comodi e versatili, e si adattano perfettamente al polso di chi lo indossa. La lunetta nera unidirezionale è un omaggio al design classico degli orologi da immersione, mentre le tecnologie moderne ne migliorano la funzionalità e l'affidabilità. Indossare il Black Bay Lunetta Nera significa portare con sé un pezzo di storia dell'orologeria, reinterpretato per il mondo contemporaneo.